Vi è mai capitato di svegliarvi e sentirvi privati di energia, deboli, completamente privi di positività, anche senza un motivo apparente? Se questo vi è successo saprete bene cosa si trova. Apparentemente un senso di appagamento impossibile da soddisfare e una nube grigia che sembra volerci perseguitare e non lasciare filtrare l'energia positiva. Cosa possiamo fare per affrontarla e per ritrovare la serenità e la tranquillità nel minor tempo possibile? Intanto iniziare da una doccia perché l'acqua che scorre nel nostro corpo sicuramente porterà dei benefici anche alla nostra mente e ci permetterà almeno in quel quarto d'ora o venti minuti di lasciare fluire tutte le emozioni. Magari apparentemente ci sembrerà un controsenso, però sicuramente dopo qualche ora avremo modo di riflettere con una nuova consapevolezza sui nostri stati d'animo. Se non abbiamo abbastanza energia per dedicarci ad altre attività che sarebbero comunque preferibili perché porterebbero a una distrazione momentanea, un assorbimento delle idee da parte proprio della focalizzazione su altri ambiti, allora potremo decidere di scrivere oppure anche semplicemente di metterci davanti allo specchio e tirar fuori tutto quello che proviamo, di urlare, di gridare, perché è fondamentale aprirsi alle emozioni. Prima le affrontiamo e prima torneremo a stare meglio. Al contrario cercare di ignorare quelli che sono i nostri primi segnali di tristezza, di angoscia, di senso di costrizione non può che amplificarvi nel tempo e portare a un effetto molto più nocivo. Quindi il mio consiglio è quello di intervenire direttamente. Andiamo all'origine, scardiniamo subito questa emozione e anche se avremo da dover combattere con questo stato d'animo saremo certi che avremo impegnato tutti noi stessi per comprenderlo a fondo e non ne rimarremo sopraffatti ma saremo in grado di scardinarlo.